Ciao, sono Fede Morgana e benvenuti nel mio atelier. Ti piacerebbe realizzare gli abiti per te, per le tue amiche, per i tuoi bambini o magari trasformare la tua passione in un lavoro? Ho creato una serie di corsi per portarti da zero a start e imparare a realizzare gli abiti dei tuoi sogni, come ad esempio abiti storici, fantasy, cosplay, oppure abiti da sposa e cerimonia. Ma per arrivare a realizzare abiti complessi, come ad esempio questo, questo per esempio è un abito da sposa molto particolare di ispirazione storica, bisogna comunque partire dalle basi. Sia se già le conosci e quindi vuoi rispolverarle, sia se invece parti da principiante, ho creato una serie di videocorsi adatti a te. All'interno di questo primo corso gratuito apprenderai tutte quante le tecniche per realizzare una borsa di stoffa, una shopper come questa, perfetta per andare a fare shopping, per andare al mare, per acquistare le nostre mercerie. Naturalmente partiremo dalle basi, quindi dalla creazione del cartamodello, passeremo al taglio della stoffa, alla cucitura a macchina e poi potrai perfezionare, personalizzare e modificare la tua borsa per renderla unica e speciale. Per chi non mi conosce, io mi occupo di sartoria artistica da molti anni e nello specifico di realizzazione di costumi storici, fantasy, abiti da sposa e cerimonia molto particolari. In più, da diversi anni mi occupo anche di formazione in presenza qui nel mio atelier oppure anche online con diversi video tutorial e anche con delle consulenze in remoto. Moltissime sono anche le mie alunne che sono passate da hobbyste a professioniste, aprendo degli atelier o lavorando come stiliste e costumiste. Detto questo, andiamo quindi subito all'interno del mio videocorso e ti aspetto nella prima lezione. Ciao da Fede Morgana!